ciao ragazzi allora ho scelto proprio oggi come giornata il sabato per parlarvi di un argomento che mi sta a cuore ovvero il rapporto che c'è fra il conoscere i cani da guardia ovvero averne un minimo di cultura e non sbagliare più gli acquisti vi posso dire con tutte le persone che mi seguono che fra canali youtube e altri social facebook eccetera sono quasi 100.000 io ricevo quasi tutti i giorni delle mail e tutti i giorni invece dei messaggi su messenger le persone che si lamentano di essersi presa quella che loro chiamano fregatura ovvero di aver acquistato cani magari a fronte di promesse che poi loro li volevano la guardia e poi in realtà guardia non sono stati se io però cerco un elemento comune che c'è in tutti questi acquisti di chiamiamoli di insuccesso c'è sempre che loro non avevano quel minimo di cultura necessaria sul cane la guardia che gli avrebbe permesso di non fare questi incauti acquisti e cosa intendo io come cultura minima necessaria è ovvio che se voi fate un altro lavoro un'altra professione non potete avere le competenze che ha un allevatore io tutti i giorni lavoro con i cani continuamente seleziono cucciolate lo faccio da vent'anni ed è ovvio che non è difficile per me mettermi da una parte quei soggetti che poi quando crescono sono quei cani da guardia che voi vedete ma voi degli errori assolutamente grossolani potete evitarli se faceste un minimo di cultura ho scritto come molti dovrebbero sapere ma ancora troppo pochi però lo sanno questo libro dal titolo cani da guardia come liberarsi dai ladri per sempre ecco ho scritto questo libro perché ho voluto fare anche un po una prova siccome per acquisire una certa cultura sul cane la guardia sarebbe necessario acquistare i miei video corsi ma molti ne fanno una questione di costo di insomma per tutta una serie di motivi non vogliono spendere quei soldi e non vogliono farsi una cultura come dio comanda per non dico diventare esperti cinofili ma per almeno capire quella base che gli consentirebbe di non continuare a fare questi incauti acquisti ho fatto questo libro e ho quasi lanciato una sfida dico normalmente i libri hanno un costo ma questo io ve lo metto volevo mettervelo gratuito e ve l'ho messo 0 99 praticamente gratuito allora parlando di facebook io ho 60 mila persone che mi seguono su una sola pagina voi pensate mica che io ho venduto cioè che 60 mila persone hanno scaricato a meno di un euro il libro ma voi pensate mica che l'hanno scaricato 6 mila no ma sono moltissimi di meno perché le persone piuttosto perdono anni interi a discutere sui forum ma sono allergici a quello che è lo studio a quello che è l'approfondimento sull'argomento maggior parte delle persone che mi scrivono nonostante dicono di aver sentito i miei filmati molte volte sinceramente dico che l'hai ascoltato ma lei capito no perché mi continuano a dire quale razza mi consiglia per cani da guardia quindi siccome la razza è ciò che è stato trasferito in questi ultimi 20 o 30 anni nella cinofilia la gente parte dal presupposto che si acquisterà al cane di una certa razza sicuramente verrà soddisfatto nel servizio che ne vuole ottenere molte sono le persone che con lei alleva il cane pastore dell'asia centrale ma io adesso ho deciso di comprarmi per dire un pastore maremano ambruzzese piuttosto che un pastore dell'anatolio un pastore del caucaso un cane da montagna di pirenei e molti altri cani ma quello non è il problema di che razza tu hai scelto perché faccia la guardia a casa tua il problema è se tu attribuisci alla razza le capacità di farti la guardia anche quelli che a mio favore dicono no dal prossimo cane sarà un pastore dell'asia centrale perché voglio una guardia come si deve ma non è il pastore dell'asia centrale qualsiasi che te la farà perché io te ne faccio vedere quanti vuoi e basta che ti porti nei pascoli e molte volte l'ho già dimostrato i raduni e lo dimostro nei filmati che tu entri al contrario di cosa dicono tanti in mezzo al greggio i cani pastori dell'asia centrale miei quindi di mia selezione nati dai miei riproduttori magari cani fortissimi la guardia scodinzano ti vengono incontro e accarezzi e se vuoi li carichi sulla macchina e lo so che a chi fa una vendita dozzinale magari mirata all'esposizione non al lavoro questi discorsi piacciono poco e magari vengono presi come spunto per farmi critiche di ogni tipo ma non è nient'altro di ciò che vedo nel lavoro mio quotidiano di tutti i giorni dove un cane assolutamente non ne vale l'altro cioè se si prendono due fratelli si sbaglia a prendere un fratello c'è l'amico che un superguardiano e l'altro che dorme tutto il giorno indipendentemente che siano pastori del caucaso pastori dell'asia centrale di qualsiasi razza cani corso rottweiler qualsiasi cane che voi abbiate in testa e vi piaccia se non ha delle caratteristiche innate che voi poi non riuscirete poi a correggere con l'addestramento voi non otterrete quello che pensavate di ottenere quindi non per fare pubblicità nuovamente al mio libro che si intitola comunque cani da guardia come liberarsi dei ladri per sempre che lo trovate su amazon ma potete scaricarlo trovate su amazon cartaceo a 9 99 euro 90 ma potete scaricarlo a 0 99 ma semplicemente per risparmiare anche un po lavoro a me nelle risposte non continuate a seguirmi sulla pagina ma rimanere sempre con le vostre idee non migliorare la vostra cultura cioè quando io metto una fotografia magari di un bel cane prendo 400 mi piace poi faccio un filmato per spiegarvi qualcosa di veramente importante dipende se non ci sono i cani prendo 50 a 60 mi piace se ci sono i cani magari divertente ne prendo 300 ok quello è bello se per voi la cinofilia è solo un gioco ma se alla cinofilia sei cani voi volete dedicare la protezione della vostra famiglia credete che i cani da guardia siano di qualcosa di veramente importante come credo io per la sicurezza non solo della vostra casa ma dei vostri cari ecco prima dell'acquisto bisogna farsi un minimo di cultura e bisogna utilizzare tutti gli strumenti possibili immaginabili perché sennò le probabilità che il vostro acquisto sarà sbagliato sono molto elevate ovvero che il vostro acquisto sia giusto e come riuscire a fare 13 a quello che era il totocalcio dove qualcuno ce l'ha fatta tutti sperano ma poi in pratica pochi ci riescono e vi ringrazio tanto perché mi avete seguito e vi auguro buona giornata a presto